Una banale lite culmina con un'aggressione a colpi di zappa, sfiorata la tragedia a Canosa di Puglia, dove nella mattinata di ieri i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Carlo Alberto a seguito di una violenta discussione avvenuta tra due agricoltori di 31 e 61 anni. Secondo quanto ricostruito, il più giovane si era lamentato con il 61enne perché infastidito dal rumore del compressore utilizzato dallo stesso per effettuare alcuni lavori presso la sua abitazione. Dalle parole si è passati presto i fatti, il più anziano ha aggredito il 31enne colpendolo in testa con la zappa e facendolo cadere al suolo. Personale del 118 immediatamente intervenuto ha soccorso la vittima in condizioni gravi trasportandolo con urgenza prima presso l'ospedale di Andrea, poi al Policlinico di Bari. Solo per un caso si è salvato con una prognosi di guarigione di 25 giorni, salvo complicazioni. I carabinieri, dopo aver accertato i fatti e sequestrato il corpo contundente, hanno identificato l'aggressore che dopo le formalità di rito su disposizione della competente autorità giudiziaria è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.